Oggi voglio fare un esperimento, un esperimento che spero possa essere utili a quanti vogliono fare lo speaker radiofonico. Bentornati sul mio canale YouTube, grazie per avermi scelto, per aver scelto in particolare questo canale e magari per aver messo anche un bel mi piace a questo canale. È una cosa meravigliosa e questo io ve ne sarò grato per sempre, soprattutto a tutti quelli che stanno contribuendo alla crescita di questo canale. È una strada lunga, lunga e tortuosa, ma neanche tanto tortuosa, comunque lunga, che però sta dando i suoi risultati e questo mi fa molto ma molto piacere. Avete visto i social scorrere bene? Allora, teneteli lì presenti nel caso vogliate entrare in contatto con me. Ma c'è anche un modo per continuare a sostenere questo canale. Come? Così! Iscrivendovi a questo canale, cliccando anche sulla campanellina, così avrete tutte le notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Allora, dicevo nell'intro di questo video che vorrei fare un esperimento per aiutare le persone che vogliono iniziare a fare questo mestiere o che magari lo fanno già e che sono all'inizio e cercano qualche consiglio. Tutto questo mi viene dettato da molti di voi, quindi è merito vostro se ho pensato di fare questo video e soprattutto iniziare questo esperimento proprio con voi. Perché in molti mi scrivete e mi dite senti Fabio, scusa, puoi sentire questa demo? Secondo te va bene? Puoi sentire questo mio intervento in radio? Mi puoi dare qualche consiglio? Va bene, allora ho deciso di fare una cosa. Voi inviate le vostre demo a me, dove? A questo indirizzo mail, solo a questo indirizzo mail, mi raccomando, demo è facile, demo-fabbiocalvari.it Inviate le vostre demo e una volta ogni 15 giorni, mi prendo questo impegno con voi, una volta ogni 15 giorni le esaminerò in diretta, faremo una diretta e ascolteremo e esamineremo le vostre demo. Così intanto darò dei consigli al diretto interessato e tutti quelli che ascolteranno e vedranno il video potranno prendere spunto, magari per creare una demo successiva. Spero che possa essere un aiuto, perché la demo è un po' il biglietto da visita che ognuno che tenta di fare questo lavoro invia a quella radio piuttosto che quell'altra e tutto si decide lì. Certo, si decide anche, e lì serve un po' di fortuna, si decide anche nell'inviare la demo al momento giusto, nel posto giusto, nella radio giusta che sta cercando proprio in quel momento. Però la demo è un biglietto da visita molto importante e se viene realizzata bene, se ha delle caratteristiche importanti o comunque ben definite che possano definire a loro volta il vostro carattere, il vostro carisma, insomma il vostro saper stare davanti a un microfono, beh può essere un ottimo biglietto da visita e potrebbe darvi la per entrare, che ne so, da una radio web in una in FM, magari più piccolina, e da lì via discorrendo. Insomma questo io lo faccio molto volentieri, se posso essere utile, se posso dare una mano a quanti stanno cercando di trovare questa strada che potrebbe sembrare tortuosa e che forse lo è anche un pochino, ma con le giuste indicazioni è probabile che si possa andare avanti un pochino più agilmente. Questo certo non è garanzia di riuscita, però intanto analizzare le vostre demo e farlo in diretta, ascoltandole proprio in diretta, insomma mi sembra una cosa carina da poter fare e spero che possa essere utile. Quindi se avete voglia che io testi le vostre demo, che io ascolti, vi dia qualche consiglio sulla demo che avete preparato prima di spedirla da qualche parte, fate una cosa, speditela a me, a questo indirizzo qui, demo-fabio-calvari.it. Sarò ben lieto di poterle raccogliere e una volta ogni 15 giorni qui su YouTube farò una diretta e ascolteremo le demo e per ogni demo vi darò i consigli, gli aggiustamenti da fare laddove sia necessario, perché può darsi pure che arriveranno delle demo che sono già perfette così, non è detto. Quindi mi raccomando, questa è una cosa che faccio molto volentieri, ve lo dico, perché so che c'è bisogno di aiuto, so che delle volte si naviga un po' al buio, si fa qualcosa perché si è sentito dire, perché si cerca di copiare, però non si hanno le giuste coordinate. E allora mandate le vostre demo a me qui, demo-fabio-calvari.it, io le ascolto, le metto insieme una volta ogni 15 giorni proprio qui su YouTube, farò una diretta e ascolteremo le vostre demo e le correggerò laddove sarà necessario, vi darò le indicazioni laddove sarà necessario per poterla modificare e renderla migliore magari di quella che è stata fatta in quel momento. Spero che questo possa essere veramente di vostro aiuto e grazie per quanti mi chiedono consigli tutti i giorni. Io cerco di essere il più vicino possibile alle persone, però immaginate pure insomma che il da fare è tantissimo, il lavoro è tanto e quindi spero di, anzi sono sicuro di trovare il tempo per farlo perché ho preso questo impegno e lo voglio fare pubblicamente qui davanti a voi. Va bene? Grazie, però mandate le stesse demo perché sennò poi se me le mandate sui social, lì allora non le ascolto più, c'è questa possibilità. In descrizione, qualora non aveste fatto in tempo a leggere dove mandare queste demo, in descrizione c'è l'indirizzo mail al quale mandarle. Vi aspetto, vi aspetto con le vostre demo, ma vi aspetto anche su questo canale e se tutti gli argomenti che tratto sono di vostro interesse, fate una bella cosa, mettete un bel pollicione su e poi ecco qua, iscrivetevi al canale, cliccate anche sulla campanellina così sarete informati con delle notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video e non ve ne perderete nemmeno uno, tutto chiaro no? Abbastanza. Vi aspetto alla prossima proprio qui, ciao! Ciao!